Georgia Marchi ritrovata come schiacciatrice una stagione speciale ed una nuova finale Vero, è vero, sono molto contenta perché avevo proprio voglia di giocare un'altra finale con questa nuova sfida in posto 4 Me la sto carichiando diciamo, via È stata una partita più facile di quello che si poteva aspettare Dopo la battosta in gara 2 a Ponte Felcino Oggi avete riscattato con una prova senza diciamo sbavature dove avete messo sotto le avversarie E solo nel terzo set sono riuscite per un punto a mettere il naso davanti ma oggi eravate troppo concentrate Oggi eravamo troppo concentrate, ci abbiamo messo tutto quello che avevamo e è andata bene così, dobbiamo fare sempre questo Adesso arriva Acqua Sparta, una finalissima che era annunciata all'inizio della stagione Le due squadre migliori della categoria e sicuramente sarà una battaglia cosa si prevede Ma è tutta da giocare secondo me, noi siamo pronte e dobbiamo giocare convinta di quello che facciamo Una partita che sicuramente è stata vinta oggi anche da un grande tifo al Palarota potrà essere il fattore campo decisivo? Il tifo oggi è stato fantastico C'era anche tanta gente che deve essere sempre così, io spero che sia così sempre perché il tifo ci vuole